Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video! Io sono Martina, nel video di oggi vi mostrerò alcuni outfit da cui poter prendere ispirazione per questa primavera. Io amo i video di questa tipologia, seguo diverse ragazze coreane che hanno uno stile pazzesco e mi sono detta perché no, proviamoci! Essendo il primo video non ho ancora trovato una location perfetta, adatta, perché so che avere uno sfondo monocromatico renderebbe ancora di più, ma mi sono dovuta un attimo adattare. Se questo video dovesse avere successo ovviamente cercherò di migliorare. Se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un like così ne porterò altre e anche in vista dell'estate ho tante cose carine da farvi vedere e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Senza perderci in chiacchiere, cominciamo subito! Ciao! 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 Ero! Grazie a tutti. 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 Rieccoci. Questi sono gli outfit a cui ho pensato. Sono tutte cose che avevo già nell'armadio, quindi se troverò il link di qualcosa che ho acquistato più di recente vi lascio giù nell'infobox. Qualcos'altro inevitabilmente non riuscirò su internet, anche se io l'avessi comprato abbastanza di recente potrebbe non essere più disponibile. Ad ogni modo, se trovo se trovo qualcosa di acqua di recente, se trovo qualcosa di acqua di acqua, se non qualche piccolo pezzo che magari ho pagato un po' di più, ma capi molto abbordabili. Fatemi sapere nei commenti quale look vi è piaciuto più in assoluto. Un grande bacio e al prossimo video. Ciao!